Grazie a tutti. Io mi ricordo che l'intento nostro era quello, con lo rinforzato, ci si andava a ammogliare tutti i nuovi. Però andiamoci sempre con i piedi di piombo e fare le cose indispensabili perché siamo al limite. Se ci sono cose di non fare completamente non si devono fare. Laddove i balconi sono risanati ci mettiamo l'intorno che i supervise. Cerchiamo di andarci molto, molto piano. Grazie. 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 Grazie.